La manifestazione si chiama Aspettando il Gallo d'Oro proprio perché è un'attesa. Avrà luogo venerdì 9 luglio nella parte scoperta del centro civico in piazza Cavoura a Gallo di Petriano. Abbiamo pensato a questa serata che fa un po' da ponte per quello che c'è oggi e quello che sarà luglio prossimo quando festeggeremo realmente il nostro cinquantesimo festival in modo molto più decoroso ovviamente. Questa serata è una serata libera per il cantante, non esiste nessuna sorta di iscrizione. Il cantante partecipa ma comunque verrà ascoltato da una giuria d'eccezione che saranno giornalisti. In giuria c'è anche il maestro Stefano Venturi, Virginio il cantante vincitore di Amici di qualche edizione fa e quindi avranno anche consigli e ne uscirà un premio che verrà dato al cantante da parte di questa giuria. La serata sarà anche intercalata da un po' di spettacolo ovviamente, come le nostre farfalline apriranno la serata perché sono ormai una colonna portante del festival e ci sarà anche un ospite che è Antonio Mezzancella che anche lui viene da Tussichevales e quindi è anche molto conosciuto, un ottimo artista. Durante la serata l'esibizione dei cantanti sarà intercalata giustamente da questi piccoli spettacoli. Tutto questo per arrivare al prossimo anno dove, come dicevo prima, il festeggiamento sarà più importante. Resta di fatto che durante l'inverno realizzeremo una masterclass proprio con Virginio e tutti i cantanti che ad oggi si presenteranno comunque avranno una corsia preferenziale per questo evento. Aspettiamo ancora iscrizioni, iscrizioni nel senso che ogni cantante che si reputa valido può fare comunicazione come informazioni ci sono sui nostri canali social per poter partecipare e di conseguenza avere poi anche una corsia preferenziale per quanto riguarda la masterclass, come dicevo. La serata avrà inizio alle ore 21. Come dicevo, chiunque si voglia iscrivere lo può ancora fare, visto che non c'è una vera e propria gara e quindi lo può ancora fare iscrivendosi, chiamando, contattando le persone che sono sui social. Per il pubblico, ovviamente rispettando le normative di sicurezza vigenti ad oggi, si possono prenotare, ci saranno delle postazioni distanziate ovviamente, chi vuole lo può fare sempre tramite i contatti che ci sono sui social, Facebook e Instagram. Nella pagina dedicata ad Aspettando il Gallo d'Oro ci saranno i nominativi di Giulia e di Cristian dove possono contattarli e prenotarsi.